Devo restare per forza. Sta zitto. Questo è il libro che ho fatto su mia figlia Annie. Sulla maggior parte delle foto è ritratto anche mio figlio Walter, perché erano gemelli. Voglio cominciare da quando io e Larry ci siamo incontrati la prima volta. Questa è l'ultima foto che ho di Larry. Sei il figlio di Gloria, giusto? Sì, Walter. Walter, esatto. E cosa fai di solito quando non sei qui in tribunale? Faccio il ragazzo pollo che lavora da Megaport. Ha fame? Provi Megaport. Pollo, sei uno stronzo! Perché non vieni qui a dirmelo? Sono una frana in quel lavoro. Dimmi a che ora torni. Nessun problema. Dimmi, che cosa facevi prima che accadesse tutto questo? Lotta libera. Ero nella squadra nazionale dell'Aiola. Dai, ritardato, vuoi fare a botte, sì o no? Ehi, lascialo stare! Il prossimo sabato ci sarà uno di quei matrimoni organizzati da me. Ecco, di solito piango. Ai matrimoni. E se mi faccio accompagnare da qualcuno, forse potrei controllare le mie emozioni. Puoi chiedere a Clay di venire da me unedì in palestra? Secondo me sei portato e puoi sfogare la tua energia. Che cosa pensi di fare questo weekend? Erano anni che non vedevo Clay così felice. Aggancialo da sotto! Grande, ce l'hai fatta! Io volevo ringraziarti per aver aiutato Clay. Adesso pensi di sparire dalla nostra vita. Perché io e Clay, a noi sai, piaci tanto. Hai capito o no? Reagisci! Clay! Aikà! Ti Stri Stri Grazie a tutti